Quali sono i programmi per il futuro di Bologna dei quattro candidati alle primarie del Partito Democratico? Questo è il tema del forum che si è tenuto questa mattina nella sede del Resto del Carlino. Faccia a faccia si sono confrontati Maurizio Cevenini, Flavio Del Bono, Andrea Forlani e Virginio Merola, incalzati dalle domande del capocronista della cronaca di Bologna Massimo Gagliardi e da quelle inviate via mail dai lettori del Resto del Carlino. Anche noi abbiamo chiesto ai quattro candidati del Partito Democratico un breve panorama dei loro programmi. Ascoltiamoli. Siamo con Flavio Del Bono, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, assessore al bilancio e indiscutibilmente uno dei favoriti per la candidatura a sindaco per quel che riguarda il PD e queste primarie del PD. Qual è il suo ruolo e quali sono le cose che propone ai cittadini? Io ho deciso di candidarmi alle primarie quando Cofferati ha rinunciato a ripresentarsi, avendo in mente fondamentalmente due obiettivi. Il primo è quello di cercare di valorizzare, mantenere le grandi eccellenze di Bologna in una fase critica per l'economia, per la società e una fase probabilmente non breve. La seconda è che io credo anche che Bologna mi abbia dato molto, io sto a Bologna dall'inizio degli anni Ottanta e forse è una buona occasione per cercare di restituire a una città che mi ha dato sicuramente molte opportunità di lavoro, di crescita e di ambientazione anche familiare. Le cose più importanti, sicuramente la sfida più grande è quella delle risorse in questa fase, bisogna cercare di fare di più con meno e quindi l'efficienza, la riorganizzazione devono essere pratiche attraverso le quali liberiamo risorse per le principali emergenze e per avere un disegno complessivo sul futuro. Emergenze sono quelle dell'occupazione, comincia la cassa integrazione anche da noi, quella di aiutare soprattutto le famiglie più deboli, penso per esempio ad aiutare le famiglie con persone non autosufficienti, la regione lo sta già facendo, dobbiamo farlo anche come comune, dare una svolta, una prospettiva anche ai molti ricercatori bravi che lavorano all'università, che lavorano nei nostri centri di ricerca attraverso un accordo con l'università, mi piacerebbe molto che Bologna ci lavorerò, diventasse un grande centro di ricerca applicato in materia ambientale, anche con la società AERA se è disponibile e infine per quanto riguarda il disegno più complessivo dobbiamo fare dal basso l'area metropolitana, mettere insieme delle funzioni anche per snellire, dare flessibilità agli altri ambienti locali oltre a Bologna e ovviamente in una prospettiva metropolitana e di nuova capitale europea come Bologna può essere il tema dell'infrastruttura è decisivo, quindi il potenziamento dell'aeroporto, quindi sicuramente il passante nord, sicuramente la nuova stazione e poi anche le altre opere che riguardano la mobilità urbana più in senso stretto. In questo senso credo che ci siano tutte le condizioni per conservare da una parte l'eccellenza raggiunta e dall'altra anche rilanciare il ruolo di Bologna in Italia e in Europa. Siamo con Maurizio Cevenini, Presidente del Consiglio Provinciale, uno dei candidati del PD per le primarie ed è anche tra quelli che sicuramente godono del tasso di popolarità più alto. Quali sono gli obiettivi di Cevenini nel caso venisse eletto Sindaco? Intanto la presentazione indicava la priorità, la priorità è stare in mezzo alla gente, io vedo il Sindaco della città che naturalmente ha una squadra forte, preparata in tutti i ruoli significativi dell'attività amministrativa e poi un Sindaco simbolicamente nella strada, però il polso dei cittadini e la qualità della vita dei cittadini va ascoltata direttamente. È quello che ho fatto in questi anni che continuerei a fare in una carica più importante, tenendo ben presente i problemi di oggi, non sono quelli di ieri perché la crisi economica ci sta assalendo, ci sta assalendo in modo grave. Le statistiche che abbiamo dimostrano che ancora l'Emilia Romagna e Bologna in particolare ha una sua vivacità legata soprattutto alle piccole imprese, alla capacità di fare dei bolognesi e credo che questo sia un grande valore anche verso mesi difficili e delicati. Naturalmente le prime cose da fare sono una razionalizzazione in area metropolitana delle attività, delle attività in particolare nel campo del sociale che credo che sia una caratteristica che ci invidia tutta Europa. Dobbiamo smettere di parlare male di Bologna, noi ci pensano già altri fattori, noi dobbiamo valorizzare il buono, i servizi sociali della nostra città sono straordinari, vanno conservati e da quella base bisogna partire eventualmente per tagliare altri momenti. Naturalmente come si fa negli appelli elettorali o si faceva un tempo, l'invito doveroso ai cittadini bolognesi a votare, ad utilizzare questa straordinaria opportunità delle primarie per scegliere uno dei candidati in campo e poi il confronto sarà sicuramente virtuoso e sarà importante vedere come andrà a finire. Siamo con Andrea Forlani, presidente del quartiere Santo Stefano, uno dei candidati per le primarie del PD. La sua collocazione è un po' particolare anche rispetto agli altri candidati proprio perché parte dalla base, dal quartiere. Quali sono gli obiettivi di un Andrea Forlani se dovesse diventare sindaco? Gli obiettivi sono quelli che ho portato avanti, che ho cercato di portare avanti in questi 4 anni e mezzo di amministrazione, quindi obiettivi di un'amministrazione concreta che parte dai problemi per cercare di risolverli in modo pratico e non attraverso teorie astratte o piani generali. Io come si sa mi ero già candidato alle primarie il 17 luglio scorso, quindi quando in campo c'erano ancora Cofferati e la mia posizione da questo punto di vista è sempre stata chiara. Io faccio parte di questa amministrazione, l'ho fatto con la lealtà dovuta, ma non mi sono mai nascosto anche quelli che erano i punti critici. Chiamiamo di vedere che devono fare parte di una discussione ampia, così come merita una competizione nuova e democratica, quale quella delle primarie all'interno del partito nuovo. I miei obiettivi sono quelli di affrontare con la massima chiarezza possibile le questioni cruciali di questa città, dalla sicurezza alla mobilità alle infrastrutture, cercando di tenere tutto quanto di buono che è stato fatto in questi anni ed è stato molto e cercando però di correggere quegli errori che in particolare dal punto di vista metodologico ho riscontrato nella mia attività concreta di amministratore. Quindi questo è il mio obiettivo e questo è quello che sto facendo in questa campagna e che farò fino all'ultimo. Siamo con Virginio Mero, l'assessore all'urbanistica e casa del Comune di Bologna, anche lui candidato per le primarie del PD. Nel caso diventasse sindaco quali sono i suoi obiettivi e i suoi programmi? Penso che ci sia bisogno di un sindaco capace di unire la città e quindi avere un programma che prima di tutto si rivolga ai cittadini di Bologna e poi alla destra e alla sinistra. Questa è sempre stata la caratteristica di Bologna. Mi auguro che possa essere la caratteristica del nostro paese. Proporrò di fare una coalizione ampia a partire dalla condivisione di progetti per la città. Prima del programma c'è il metodo. Penso che sia ora di allargare il nostro sistema di governo alla università, alle associazioni principali della nostra città e insieme a loro condividere dei progetti per il futuro di Bologna. Capita troppo spesso che si dica che ci vogliono dei progetti volare alto. Io penso che prima bisogna tenere pulita la pista di decollo e quindi insieme ai progetti prendersi molto cura della città, del suo arredo urbano, delle questioni che preoccupano la vita quotidiana dei nostri cittadini. Grazie. 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 Grazie.